Allora benvenuti alla seconda ricapitolazione della lezione avvenuta a metà agosto in cui spiegavo come usare Blender per fare degli sculpted dopo scontato che abbiate seguito la prima lezione in cui vi ho già spiegato come installare Blender 2.61 la versione è importante, quindi dovete usare esattamente quella perché stasera useremo un plugin che si chiama Albsalgar che è un po' una copia di un prodotto commerciale che si chiama Primstar 2 la storia è lunga su questi due prodotti diciamo che Albsalgar è uguale alla versione che c'era di Primstar 2 a novembre-dicembre del 2011 come tale questa versione è un po' arretrata e quindi non può essere usata con le ultimissime versioni di Blender quindi bisogna fare molta attenzione a usare una combinazione giusta di Blender e di Albsalgar Allora Blender 2.61 l'abbiamo scaricato, adesso andiamo a scaricare Albsalgar Allora, la cosa più semplice è quella di scrivere semplicemente nella ricerca Albsalgar Download e qui abbiamo varie opzioni di tutte le opzioni che cerchiamo prendiamo quella un po' più recente quella del 26 aprile 2012 vedete che ce ne sono altre versioni più vecchie ma noi ci concentriamo su questa questa qui, Albsalgar Beta 26 aprile 2012 andiamo sul sito ok e qui possiamo scaricare lo zip di questa versione Albsalgar Beta Zip allora lo zip che verrà scaricato qui lo clicco in realtà c'è un nome un po' strano che è questo vedete Albsalgar Beta V001 22 GAAFDD 3B l'ho già la settimana volta che lo scarico non lo scarichiamo una volta più è piccoletto quindi ci fa in fretta a scaricare una piccola cosa se siete sotto Mac abbiamo visto che ci sono alcuni problemi a fare questo scarico perché Mac prende lo zip e lo spacchetta di suo invece noi non vogliamo farlo spacchettare dobbiamo farlo rimanere come appunto zip il trucco su Mac per riuscire a farlo rimanere zip è quello di andare semplicemente nel cestino dove ci sarà una versione zip dove ovviamente verrà aperto in un posto prendete la versione zip del cestino e cancellate la cancellazione quindi lo fate rimergere in modo tale che esista e possiamo fare il punto successivo a questo punto cosa facciamo? apriamo il nostro Blender qui vedete che è ancora residuato della lezione precedente facciamo File andiamo su User Preferences che abbiamo visto anche la volta prima andiamo su Addons vedete qui ce l'avevo già installato ma adesso dobbiamo rifare l'installazione quindi non ignorate facciamo Install Addon e andiamo a metterci la locazione in cui abbiamo messo questo Albsalgar Beta se no sappiamo dove sia io uso sempre questo mio mitico Everything che cerca tutto sul mio PC è un po' il finder dell'Albsalgar Zip dell'Albsalgar Zip cercate quello che ha V001.22 o eventualmente più recente vedete che è piccoletto 62 KB lo prendete cioè prendete un po' dove è messo quindi in pacchia di downloads prendiamo il nome del path lo mettiamo qua e poi qua cerchiamo Albsalgar Asterisco vediamo un po' se lo riusciamo a trovare in questo modo eccolo qua queste sono tutte le versioni di Albsalgar quindi prendiamo una di queste non questa che è una versione vecchia ma prendiamo questa che è .zip ed è la 001.22 una volta selezionata facciamo install addon compare l'oggetto Albsalgar Beta e io devo abilitarlo se per caso non me lo facesse vederlo posso cercare faccio Albsalgar e me lo trovo se non riuscisse a installarlo o farvelo vedere oppure se non funzionasse queste cose ricordatevi che su Windows 7 soprattutto è opportuno che il Blender lo lanciate come Administrator così vi rispermiate un po' di problemucci quindi a questo punto mettete la spunta qua e il vostro plugin per fare Sculpted è disponibile se poi volete fare Save as Default la videata che avete correntemente diventa il default oppure lo ripristinate tutte le volte comunque ricordate che vi siete scaricato il .zip la versione .zip la installate con questo tasto e poi fate l'abilitazione ok una volta fatto questa operazione cancelliamo il nostro oggetto che abbiamo quindi cance andiamo in Add se abbiamo fatto tutto giusto abbiamo anche UV Shape allora UV Shape è tipico è la tipica manifestazione che avete installato il plugin di Primstar oppure di Albsalgar giusto e facciamo un piccolo esperimento proviamo a mettere un cilindro ok allora il cilindro che è questo lo vediamo da con il tastino numerico quindi tra l'altro è opportuno se volete usare Blender avere un mouse a tre tasti normale con la rotellina possibilmente e il tastino numerico funzionante ci sono dei trucchi anche per farlo anche senza il tastino ma diciamo se vogliamo risparmiarci i problemi usiamo il tastino premiamo l'1 del tastino numerico per vedere l'oggetto di fronte e facendo 1 qui è diventato front e poi togliamo la vista prospettica persp con 5 e quindi abbiamo la vista frontale orto poi muovendo la rotellina ci avviciniamo per vederlo meglio questo oggetto se vogliamo orbitarci attorno possiamo tenere premuto il tasto centrale del mouse che è la rotellina e poi muoviamo il mouse e possiamo ruotarci attorno torniamo 1 per vederlo di fronte e per editarlo cioè per modificare questo cilindro facciamo un tab tab che si va in edit mode oppure da qua premeremo in object mode possiamo anche fare object mode edit mode quando è in edit mode vedete che si vedono tutte le caratteristiche di tutti i vertici del mio cilindro qui io suggerisco sempre di cliccare e far diventare bianco quindi grigio chiaro questo limit selection in modo tale da poter selezionare anche i vertici nascosti facciamo A la lettera alfabeto A per deselezionare tutti i punti quindi averlo tutto grigio e non arancione e poi posso usare la B B border per ho premuto B e poi trascino il mouse tendo premuto il tasto sinistro del mouse e seleziono praticamente il fondo di questo cilindro il mio obiettivo a questo punto è quello di farne una sorta di bicchiere avendo selezionato questo tutto tutta la parte di sotto tra l'altro se guardo di sotto vedete che è selezionato in arancione tutto questo anello a questo punto posso fare S0 S0 fa la scalatura 0 di tutti i vertici e quindi li mette in mezzo confermo col tasto sinistro del mouse e vedete che abbiamo le freccine alla second life premo 1 del tasto numerico per vederlo di lato e poi tiro su con questa freccia blu in modo tale da fare il fondo di questa specie di bicchiere dopodiché dobbiamo chiudere il bicchiere completamente chiudere il bicchiere quindi non deve essere aperto deve essere proprio tutto impacchettato dall'interno quindi devo selezionare quest'altro anello la selezione di questo anello esterno la faccio con alt più tasto destro su uno dei bordi quindi se faccio alt tasto destro vedete che mi ha selezionato tutto l'anello qui posso fare S 0 e poi tasto sinistro per confermare quindi in questo modo praticamente vedete che ho chiuso la superficie quindi come se l'avessi impacchettato tutto perché non deve avere apertura questa cosa qua la spingo verso l'interno perché voglio fare l'interno del bicchiere o alcuni di voi nella lezione non riuscivano a selezionare la freccia in quel caso ho insegnato che si poteva fare G di Grab quindi o di Genova nostra facciamo G e poi premendo Z si ottiene lo stesso effetto di ruttare cioè di spostarsi attorno all'asse Z quindi andiamo abbastanza sotto poi facciamo A per deselezionare prendiamo quindi con Alt questo altro anello Alt tasto destro del mouse ok poi lo facciamo S lo rimpiccioliamo un pochino questo anello e poi lo cerchiamo di portare sotto vedete in modo tale che faccia comunque l'interno magari lo vediamo sempre di profilo così lo vediamo meglio come sta facendo ecco cerchiamo di fare in modo tale che faccia una curva positiva poi visto che a questo punto il bordo di questo bicchiere è troppo fine vado a selezionare quest'altro anello l'altro qui vedete che si vede anche tutte le linee nascoste in questo caso le linee nascoste mi danno fastidio quindi clicco qua vedete che vedo soltanto ciò che vedo quindi faccio di nuovo alt shift su questo segmento faccio S e lo rimpicciolisco un po' ok ottengo questa specie di vaso diciamo adesso qui non è ah si volendo potrei fare proprio un vaso quindi seleziono magari qua con alt questo lo allargo un po' per ottenere praticamente questo tipo di effetto che è una specie di cappello al contrario anche si può vedere vedete che sto modellando e ho modellato usando l'oggetto di default che abbiamo visto che abbiamo introdotto come add mesh uv shape e avevo ho fatto tutto questo lavoro sul cilindro che è una delle forme più usate ok allora a questo punto per importare questo come sculpted su second life dovete innanzitutto cosa facciamo prendiamo qua vedete questo in alto a destra abbiamo questo cuneo triangolino lo clicchiamo e lo trasciniamo a sinistra in questo modo duplichiamo l'immagine qui sono due immagini uguali duplicate ma andiamo poi qua dove indica qual è il tipo di cose che facciamo e sull'immagine a destra la facciamo uv image editor per avere l'image editor questa è la tecnica che usano di solito chi usa blender se per caso venisse scomoda questa tecnica si può fare in maniera un po' semplificata anche qua quindi la vista di default che è l'iniziale quella ma posso andare nella vista che si chiama uv editing che in questo caso l'ho fatta a rovescio di come l'ho fatta io quindi ho messo sulla sinistra la uv map e sulla destra l'oggetto però almeno non dovete fare tutto il giro di allungamento se per caso vi risultava ostico ora qui deve comparire la sculpted map che è quell'immagine arcobaleno che poi andremo a caricare sul second life però vedete che adesso non c'è questa sculpted map per ottenere questa sculpted map dovete andarvela a prendere cioè in realtà c'è una sculpted map ma non è stata non è non è selezionata in questo momento la sculpted map di default per un cilindro si chiama cylinder questa e vedete che è nera nera vuol dire che deve essere ancora fatto il bake bake vuol dire in pratica dipingere cioè deve essere dipinta fotografata per fare la fotografia quindi per ottenere la sculpted map occorre andare qua nell'object e qui si fa il bake sculpt map quindi si fa la foto della sculpt map qui si dà il default di tutto e voilà a sinistra abbiamo questa sculpted map che rappresenta la forma di questo vaso oppure di un cappello secondo di come volete vederlo qui per vedere se questo veramente è un vaso se portato in second life viene bene o c'è dei difetti possiamo fare image import as sculpted e quindi questa immagine che avete sulla sinistra viene rezzata si può dire sul nostro mondo blender e quindi potete vedere se il rezzing second life di questo sculpted ha dei difetti o meno in questo caso avendo usato il plug-in la probabilità che abbia dei difetti è molto bassa se però avete non usato il plug-in usate altri metodi come vedremo metodi sofisticati è possibile che non abbiate lo stesso effetto questa immagine andiamo immagine qua facciamo save as image e ci salviamo in un formato possibilmente lossless cioè che non perde lo salviamo in formato targa e qui abbiamo il vasino .tga quindi abbiamo salvato il formato targa e poi facciamo save as image e quindi abbiamo la sculpted map possiamo andare ora a questo punto in second life eccoci qua qui abbiamo il nostro diamante mesh fatto l'altra volta facciamo a questo punto l'upload della sculpted map qui non c'è bisogno di avere la carta di credito non c'è bisogno di fare un questionario quindi per certi versi più semplice basta poter fare l'upload di un'immagine costa 10 cilindri dollari e la portiamo qua come l'avevamo chiamato il vasino giusto? il vasino .tga perfetto eccolo qua il vasino costa 10 cilindri dollari accertatevi che ci sia use lossless compression facciamo l'upload eccolo che sta facendo l'upload abbiamo un'immagine e qui a questo punto possiamo creare un cubo eccolo lì ci avviciniamo al cubo andiamo sulle caratteristiche del cubo gli diciamo che è sculpted nell'immagine dello sculpt ci mettiamo il nostro vasino eccolo ci piega un attimo a riportarlo abbiamo fatto tutto giusto eccolo il vasino e vedete le proporzioni un pochino vengono alterate ma questo è un po' nell'ordine delle idee fate attenzione a usare lo stesso stitching type con cui l'avete generato quindi siamo partiti da un cilindro lo stitching type da usare è quello di cilindro adesso in questo caso non è molto diverso ma in alcuni altri casi può essere fondamentale quindi questa è la forma che abbiamo fatto e che vedete che è più o meno quella che ci aspettavamo di vedere vi faccio rivedere di nuovo su blender su blender è questa vedete che su blender è un pochino più schiacciato ma poco male nel senso che io posso editare la forma di questo oggetto control shift e poi abbassarlo un po' per onde ottenere esattamente la forma che avete visto su blender allora ricapitolando dunque stasera cosa avete visto avete visto come si può avendo blender blender 261 ripeto la versione importante sulla blender 261 abbiamo montato un plugin che si chiama albsalgar che è una copia open source di un prodotto che in realtà è commerciale adesso che si chiama primstar 2 che costa circa 6.000 linden dollari che però il prodotto commerciale adesso vale su tutte le versioni di blender questo e se volete usare questo quindi se volete risparmiare dovete accontentarvi di quello che vi offre e con questo plugin inserito abbiamo fatto l'add mesh di un oggetto descritto dal plugin abbiamo provato a vedere alcune funzioni elementari di modellazione quindi siamo andati in edit mode abbiamo selezionato la parte bassa quindi dicendo di vedere anche i vertici nascosti l'abbiamo selezionato tutta con un selettore diciamo a rettangolo B l'abbiamo quindi serizzato quella parte l'abbiamo scalato a zero in modo tale da chiudere sotto e poi l'abbiamo rialzato usando le frecce di movimento un po' come second life e abbiamo chiuso il fondo poi siamo andati sopra la parte sopra l'abbiamo chiusa anche quella l'abbiamo portato dentro in modo tale da formare la fodera di questo di questo bicchiere e poi in questo caso vi ho insegnato come selezionare gli edge loop cioè i cerchi che rappresentano questo tipo di oggetti diciamo simmetrici gli edge loop sono importantissimi e questi si selezionano con alt e il tasto destro del mouse cliccando su uno dei segmenti del cerchio li abbiamo variamente ristretti abbassati mossi in modo tale da ottenere comunque una figura che poi è la la tazzina insomma quello che avete visto poi questa tazzina l'abbiamo fatto un baking di questa tazzina per fare il baking abbiamo aperto una nuova finestra in blender dove si potevano vedere le immagini UV in questa immagine UV sono l'equivalente delle sculpted map abbiamo selezionato la sculpted map che si chiamava Cylindra nel nostro caso che ci ha generato il nostro il nostro plugin facendo il bake è comparso misteriosamente anzi miracolosamente il nostro la nostra sculpted map la nostra immagine arcobaleno abbiamo ancora fatto una test essendo in object mode abbiamo fatto un test in cui abbiamo fatto provare import a sculpti cioè import come sculpti per vedere se l'oggetto una volta rezzato in second life era buono o no nel momento in cui abbiamo visto che era buono abbiamo fatto il save dell'immagine in un formato TGA dopodichè siamo andati su second life e abbiamo tirato su questa immagine come una normalissima immagine arcobaleno l'abbiamo applicata a uno sculpted prim questo sculpted prim l'abbiamo messo stitching type cioè stitching vuol dire il modo in cui è ricucito che è quello del cilindro perché è quello da cui siamo partiti e poi eventualmente abbiamo soltanto corretto un pochino le proporzioni per riottenere esattamente il nostro vasino o cappello se lo giriamo diventa un cappellino che volendo può essere anche indossato questa può essere anche una base molto stupida per fare tipo un primordio di abiti ok allora adesso per questa questa è la seconda lezione che abbiamo fatto ci rivediamo per vedere poi anche la terza lezione dove andiamo un pochino avanti con la tecnica di modellazione vi saluto buonasera